Dio che a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui con una nuova puntata del market watch dove andremo a guardare alcune cose che sono state annunciate che non si sa arriveranno da noi e poi ovviamente come al solito andremo a vedere un po l'andamento dei prezzi ovviamente prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto delle vostre carte che salgono e scendono incredibile se dovete recuperare qualcosa nel caso vi viene voglia di sbustare trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi jack store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di roba coreana giapponese e roba esotica tipo bandai gradate one piece cioè trovate di tutto anche con lui ragazzi c'è un referral link lo trovate qua sotto insieme anche il codice sconto mentre se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram ragazzi lo sapete sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo andiamo a vedere cosa hanno annunciato e cosa è successo al mercato allora io partirei un attimo parlando dei tactical 3 deck il nuovo prodotto che uscirà prossimamente in giappone e che diciamo è strutturato come un vero e proprio mazzo competitivo in quanto rispetto a uno structure deck normale ha più copie della stessa carta ha molte staple più dei classici structure e ovviamente sarà un prodotto che noi non vedremo mai classica mossa la conali ma vabbè partiamo adesso un attimo dei più vecchi che sono il lo structure deck del cyber drago che ovviamente era già stato annunciato e come potete vedere le carte interessanti non sono poche perché ragazzi abbiamo due copie di max però vabbè tutta la roba in due tre per cyber draghi ma vabbè quello era abbastanza scontato poi abbiamo clockwork che non sarebbe male anche da noi una reprint visto che costa all'incirca una decina se non quindicina di euro a copia poi abbiamo trust talent sales banner e jackie spolverino lightning storm colled droplet imperma cioè fosse uno structure così sarebbe molto bello vabbè di extra ragazzi non ci sprechiamo abbiamo azalea si e geral mirage se per drago nova chimer tech fortress dragon cioè diciamo che nel pratico ma anche effettivamente solo sp e diciamo non sarebbe male se arrivasse da noi così una roba del genere però vabbè dettaglio poi abbiamo anche il prodotto con il mazzo di edlitch però per adesso se non ricordo male non hanno annunciato niente lo spoiler ancora non si sa e per concludere abbiamo quello delle live twin che anche questo ragazzi è molto interessante perché ovviamente oltre le classiche due tre copie di ogni carta abbiamo anche la roba sprite perché non è solo live twin è anche sprite quindi già punti in più abbiamo blu jet red carrot quindi praticamente la roba che costa c'è sì e vabbè abbiamo anche starter sprite quindi assolutamente niente male poi vabbè abbiamo max c come con l'altro poi abbiamo di interessante ciclone cosmico spolverino colled cross out droplet poi tra le trappole imperma e e e di extra di interessante abbiamo mascherina unicorn access gigantex gigantic sprite e centaura se devo dirla tutta mi piace di più l'altro allora diciamo che il mazzo ovviamente è strutturato meglio questo perché ovviamente è un mazzo più forte però il livello di ristampe è molto non ci sono i link i link live twin sì vabbè quello era scontato cioè l'ho considerata come tutta roba live twin old e roba sprite ma tu non sai la novità quale incredibile mi dica la novità i link dovrebbero essere le alternate art e questo potrebbe essere interessante non lo so diciamo che allora allora io ho visto uno spoiler dove si vedeva l'immagine di tutte le carte e avevano messo quella ora non so che se chi ha fatto lo spoiler così ma da quello che si percettiva da quella notizia era che erano le alternate nel caso un bel 12 cazzo di quel deck si prendono non per la rivendita non per lucrare ma perché dopo un po la carta si sporca una bella gnocca su una carta non fa non fa mai male allora cosa ne pensiamo di questo prodotto ragazzi è innegabile dire che una roba così sarebbe figa da vedere da noi però io ho visto c'è ho visto ho sentito tanta gente dire è finalmente stampano i mazzi competitivi attenzione ragazzi non è proprio così perché se voi prendete una copia del mazzo non avete il mazzo competitivo o completo perché effettivamente voi non avete il playset di tutto quindi nel pratico dovreste andare a recuperare delle carte extra tipo esempio ma me la butto lì eh qua c'è mono sprite bloom solo un po pochino considerando che è sprite live twin poi io il mazzo non ho mai giocato non so se si gioca in uno o più copie però nel cioè poteva far comodo anche averne due o tre stessa cosa anche le altre carte tipo anche nello structure nel trial che abbiamo visto prima c'era mono droplet mono talent sono carte che ovviamente servono in playset quindi ovviamente è quel tipo di prodotto che ti incula dicendo finalmente mi stampano il mazzo completo ma devi comprarne tre sicuramente ragazzi con tre del prodotto avete effettivamente il mazzo però non consideratelo che con mono perci avete tutto perché non è proprio così ma neanche col tre peri in teoria dipende beh col tre peri alla fine c'hai tanto cioè hai tutto per vista roba più le carte che non ci sono no no allora a parte altre staple che potresti giocare nel pratico hai tutto live twin hai tutto sprite almeno per questo hai tutte le staple in playset e non stiamo parlando di due tre staple comunque ce ne sono tante abbiamo colled cross out droplet in perma e anche la roba di extra stessa cosa cioè comprandone tre ci avete anche roba extra molto cioè avete molta roba extra interessante da dar via tipo acce scoda acce scoda cioè più di uno non è che vi serve stessa cosa per l'altro azalea una ve ne basta tranquillamente a me ne saranno un 18 18 di azalea e va bene poi andiamo avanti come altra notizia che c'è stata questa settimana è la lo spoiler delle nuove lo start nel senso qualcosa interessante qualcosa meno carino il fatto della seconda rimissione di monster reborn perché comunque stava salendo e molta gente lo voleva però per il resto è un po così perché no abbiamo finalmente la versione originale di rana degli abissi sì però a parte la rana degli alberi il mostro risuscitato e le ultima offerta molto tra virgolette perché comunque hanno covono per il retro format ovviamente una l'altra è quella nuova le altre ci fai veramente poca roba il golden lord adesso lo andremo a vedere se cioè se cosa cambia e poi anche le altre non è tutte alla fin fine dai rubiamoci due minuti veloci l'ultima offerta ci sta questa è tutta un'altra carta questa ti giuro io non riesco a il sangue che cola a mamma mia vabbè incredibile vabbè da noi dobbiamo censurare queste stronzate poi abbiamo i che cadono sulle città si uguale poi abbiamo vabbè ok erano già ma torturato ci stava la censura però il fatto è che anche adesso te le censurano poi te le mettono come l'art me l'ha fatto notare un ragazzo e sta cosa fa molto ridere poi andiamo avanti abbiamo vabbè double trap hole ok va bene si diciamo il concetto perché si fa quella con la carne ammetto che si è vero è molto più divertente è carina poi abbiamo il golden lord ha c'è un corpo un corpo trucidato davanti si è ancora di più alla jojo allora si cioè non l'avevo proprio notato vabbè ok poi abbiamo exodia necros questo aveva una roba sulla croce davanti a sì perché ovviamente i simboli di exodia erano diversi no no il simbolo è uguale il problema è che cambia no ma in generale exodia c'ha il pentacolo ha il simbolo della magia scusami e da noi c'ha il cerchio e qui exodia necros appunto c'ha il monster reborn e da noi c'ha i ricordi ma ok forse hanno messo dei colori differenti per non farlo notare troppo e per concludere vabbè l'aureola sulla rana degli alberi che ci sta alla fine era fatta così era una rana che era morta e doveva andare in paradiso quindi l'aureola è l'unica persona che risuscita solo uno va bene allora e per concludere abbiamo la jimmy puppet e il gibson c'era del sangue wow forse la versione cg è più carina cioè rappresenta effettivamente la carta c'era del sangue addosso e c'era una bara c'era una fottuta credo no non mi sembra però boh c'è nel senso censurare la bara alla fine era molto riconoscibile io ho sempre saputo che fosse una bara e poi vabbè il mostro risuscitato che è la seconda in missione ovviamente ragazzi quando ci sono secondi missioni di l'art il codice cambia come è stato per la maga nera quindi se voi le collezionate tutte considerate che dovete mettere due mostri risuscitati e due maghe nere perché il codice cambia ve lo dico perché io ho dei problemi e quindi se non ho effettivamente tutto il set completo ha un parto di testa detto questo adesso andiamo a vedere le carte che effettivamente sono salite e uscise durante questi giorni allora prima carta oh 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 tenpai dragon sì sì tenpai dragon paedra allora ragazzi come era auspicabile paedra e qualche altra cartina sono salite perché ovviamente il set è un po me perché ha poche carte che costano quindi effettivamente ci sono delle carte che spingono di più delle altre la prima è questa che è come super rara dal costare 12 euro il punto più basso che ha toccato l'italiana attualmente è attualmente è attualmente porca troi ok diciamo che gli inglesi ci stanno ancora sui 15 euro la versione italiana invece il primo playset ha toccato i 19 porco cane allora attualmente i venduti più alti arrivano fino a 13 quindi così però secondo me se e quando ci sarà un bel torneo in europa e il mazzo sarà effettivamente cioè porterà dei risultati secondo me inizieranno i venduti a 20 fissi quando Josh Schmidt vincerà il prossimo YCS giocando a tenpai dragon sta roba schizzerà le stelle sì sì ma allora se lo gioca lui proprio lui fa le regole del mercato l'ha già fatto con Despia e lo rifarà anche con tenpai sicuramente poi come altra carta abbiamo ragazzi il trono dell'incubo questa quando abbiamo fatto il vecchio market watch dove abbiamo visto i prezzi in prevendita della carta stava sui 18 euro più o meno allora è la carta più costosa del set sì ridendo e scherzando sì è penso la carta più costosa e dovrebbe essere una ultra se non ricordo male e effettivamente ragazzi tanto è un mazzo che piace tanti tanti che giocavano una volta si ritrovano Yubel giocabile forte ovviamente provano a giocarlo il mazzo performa bene ovviamente è un mazzo del meta quindi è innegabile poi la carta ovviamente di base è fortissima quindi ok quindi poco ci possiamo fare andiamo avanti abbiamo il primo movimento ragazzi la cosa più improbabile del mondo mi fa così girare le palle sta cosa perché l'avevo nel bal che le ho buttate via tipo vabbè un anno è bassa fa cioè non si poteva sapere però minchia minchia 30 euro 30 euro copia ne avevo tipo 20 io non so infatti giuro mi fa strano che non ne ho neanche una sta roba usciva da Netsch e da MP ragazzi il prezzo è uguale non cambia niente e così vi giuro io quando ho visto i supporti Melodius non li avevo neanche letti perché di base per quanto potessero essere sgravi il mazzo non mi ha mai dato fiducia e invece sì sì per me era cioè un mazzo di merda che doveva rimanere lì invece effettivamente ha dimostrato di essere un mazzo veramente forte e veramente consistente l'unica carta che costa non è questa ovviamente questa è la carta più costosa però ci sono altre due carte che si sono ipate una da Sofu che andremo a vedere dopo e che mi hanno comprato tipo in 9 copie l'altro giorno adesso sta un pochino di più adesso sono interessato a sapere che carta stia e l'altra è questa qui ragazzi la prima è Sofina che è una rara sempre da Netsch e da MP che è salita ma quanto è che sta sta roba? un po' allora quella è la mia no 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 non riesco a vedere tutto sfocato aspetta che ringanisco lo schermo sì a questa parte devo fare di nuovo l'effetto shock bene sì sto aspettando l'effetto shock ah pensavo che tornassi su con la carta e dicessi qualcosa tu quanto è che sta sta roba? sta un po' sta un po' è salita ovviamente il primo 25 centesimi però sale subito a 4 euro la cosa divertente poi c'ha venduti che arrivano fino a 5 euro la cosa divertente è che la sua altra versione da Netsch che è sempre rara non costa così tanto cosa costa? costa 15 centesimi però il grafico è in salita e arriva fino a i 4 euro aspetta no ah ma da noi sta a 3 oh ma non ha senso no è una cosa che allora i venduti arrivano a 4 euro una versione quella da MP costa 4 euro l'altra versione quella da Netsch costa boh playset 15 centesimi l'una questo ragazzi è il mercato che non può essere ovviamente capito passiamo adesso all'ultima carta quella che un po' mi ha preso seriamente eh sì ostinato ragazzi ostinato sta vendendo sull'euro eh è salito sull'euro 50 vendute tutte a 25 centesimi va bene è sempre un surplus sì sì no 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 erano carte bulk che hai mai lanciato te quindi non problema non c'è ah te le ho lanciate io probabile probabile tutta quella quantità di roba da Sofu mi sembra sia tua sì boh avevo aperto un po' di box perché volevo boh non lo so mi piaceva colosso ok e praticamente ragazzi ostinato costa un po' costa un po' la versione da MP non ha playset è una carta che si vende sull'euro l'euro e 50 e la cosa divertente e il motivo per cui sta così tanto è che è short print ma che bello perché hai fatto le short print eh raga allora all'epoca esistevano le short print ora non esistono più quindi ragazzi quando mi chiedete perché Pydra costa così tanto perché Druism costa così tanto per essere delle super vi ricordo che quella roba ne usciva da un da zero a due box come Pydra anche attualmente quindi se non li trovate perché avete preso i box sbagliati se li trovate vuol dire che avete preso i box giusti ergo non è una carta che costa perché non si trova ma è una carta che costa perché si gioca e il prodotto ovviamente è un po' discutibile beh si viene nascosto sotto le goglie delle persone non credo va bene andiamo avanti abbiamo allora Laundry Dragon Maid ragazzi allora questa è una scoperta anche per noi non lo sapevamo ma sta salendo abbastanza questo perché si gioca in Paleozoic lo so ragazzi non me lo chiedete non so perché ho cercato non so che la interazione di Entei ci abbiano creato per far girare un mazzo così sì no 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 le interazioni vi giuro non la sappiamo però cioè viene spiegato che si gioca in Paleozoic sta salendo sia da noi che in America quindi altro altro non ci possiamo fare vi diamo ovviamente la notizia almeno lo sapete che questa carta sta salendo però nel pratico non non ne sappiamo non sappiamo altro ovviamente se voi sapete qualcosa in merito a questa carta fatecelo sapere qua sotto con un commento andando avanti abbiamo anche Simular Archifianza è una carta simpatica perché è simile a Barrier ovviamente non è forte altrettanto però diciamo che ti permette di sfruttare l'effetto anche sui rituali e i link ma leggiamo l'effetto così ve la ve la spiego in questo turno nessun giocatore può evocare specialmente mostri con gli stessi tipi di carta rituale, fusione, sync, xyz o link che già controlli se non controlli due o più carte dello stesso tipo rituale, fusione, sync, xyz, link va bene tutti i mostri fusi, xyz, rituali vabbè tutti tutti loro guadagnano 500 può attivare solo un Archidemony Simul una volta per turno come avete visto ragazzi è molto simile a Barrier però Barrier dice che non può evocare specialmente direttamente con la tipologia di carta quindi diciamo che blocca automaticamente determinati mazzi attualmente non sta ancora niente però però nel senso il suo grafichino leggermente in salita ce l'ha eh quindi da non disdagnare poi in America è già salita andiamo avanti abbiamo altra carta un po' particolare nel senso perché attualmente non sono stati spoilerati mostri pianta quindi è un attimo un po' un punto interrogativo però anche questa ragazzi sta salendo da come potete vedere il grafico è in salita e ha venduti fino a 9 euro attualmente sta ancora a 5 ma già va a 5 6 7 nel breve termine e ragazzi è forte diciamo che fa il suo in più ha monoprint da lì quindi non avendo ristampe ragazzi ogni motivo è buono per farla salire tutto qua allora passiamo adesso alle prossime carte che non hanno un vero e proprio motivo di essere qua cioè non c'è una motivazione per cui sono salite sono carte forti generiche abbiamo ovviamente Saronir ragazzi abbiamo tutto il reparto bestial Saronir che attualmente si aggira sui 7 euro da Megatin e niente carta ragazzi il reparto bestial rimane sempre forte poi abbiamo Magnemuth che è leggermente in salita comunque è stato limitato però comunque è una carta bella onesta rimane sempre sui 2 2,50 comunque 2 milioni di euro sì 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 e poi ragazzi Druisurm che è il bestial più forte e i playset costano e è tutto uno scalare verso l'alto diciamo che rimane sempre costante tra i 16 e i 17 però da come vedete il grafico è in salita la gente lo vuole perché gli serve punto anzi mi fa strano che ci siano stati venduti così bassi perché l'ultima volta che l'ho controllato cioè che l'ho venduto io erano già 16 euro quindi probabilmente è sceso e poi è risalito probabilmente post ban intanto visto che era tutto ok e quindi i prezzi sono risaliti più che altro credo anche per tutto il resto allora andiamo alla penultima abbiamo un giorno di pace ragazzi questa carta boh ha due stampe non ha altre reprint ce l'ha da opv04 e ovviamente da espansione e questa qui sale ragazzi questa nel pratico è carina cioè è una carta carina generica teoricamente dice che ogni giocatore pesca una carta e nessun giocatore subisce danni fino alla fine del prossimo turno quindi teoricamente blocchi tutta la giocata di Tenpai cioè tu parti primo parti di questa anche l'avversario si fa un più uno però se giocate contro di lui effettivamente non può fargli danni è come se lui partisse primo però ne parte secondo e c'ha comunque tutta la vostra board in campo e quindi è così attualmente ragazzi un playset un playset sta sull'1.51 che non è assolutamente male si vende fino a 3 euro considerate questo e passiamo adesso all'ultima carta ragazzi che è bonfire perché l'ho messa qua boh perché si ragazzi ovviamente la carta post banned è risalita perché ovviamente Snake Eyes non era stato toccato e rimane comunque forte giocata adesso sta un pochino ricalando perché ovviamente c'è stato un hype generale dovuto a quei 4 giorni di banned dove non è stato toccato praticamente nulla dei mazzi principali e quindi ok poi probabilmente attualmente il prezzo è questo credo si stanzierà sui 50 anzi secondo me potrebbe iniziare no più che 50 58 perché ok questo playset ragazzi ma non si sa per quale oscuro motivo io non posso acquistare questi quindi in italiano è punta i 60 mettiamola così l'hanno bloccato os oppure il market l'ha bloccato visto che ha 21 vendite non te lo farebbe vedere e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate sia dei tanti caldry deck che ovviamente delle nuove l'art e ovviamente a quello che è successo al mercato cioè di tutto quello che è salito e di tutto quello che è sceso e ovviamente se ne conoscete qualcun'altra di carta che ha modificato il suo prezzo fatecelo sapere qua sotto con un commento così ne parliamo settimana prossima detto questo ragazzi statemi easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti